Allora, appunto, va all'Inter o alla Roma? Io praticamente conosco Di Bala ma non so come mai l'altra sera ho sognato questo che lo incontravo, ero con mio marito in giro, che lo incontravo, lui doveva andare in un posto e fa vabbè ma passiamo da casa quindi viene a casa nostra, facciamo un aperitivo lì in casa e io gli chiedo proprio la fatidica domanda ma quindi vai all'Inter e lui mi guarda e mi fa no alla Roma, giuro, è finito così attenzione, è il sogno dell'amore, chissà che non sia per il monitore, sappiamo che Totti in prima persona si sta spendendo molto per questa ipotesi Romanisti in estasi quindi, dopo il sogno di Manuela i romanisti saranno in estasi guarda che il coro più...